mi fa stranissimo questo di bianco bentornati a tutti faccio finta che tu non esista bentornati a tutti nelle mie reaction a mare fuori, siamo arrivati alla terza stagione non ce la faccio, giuro un po' di contento bentornati a tutti nelle mie reaction a mare fuori, siamo arrivati alla terza stagione, al secondo episodio non mi ricordo l'ultima puntata che è successo sinceramente, se lo sbaglio è l'entrata, Rosalicci nel carcere qui c'erano tutte le dinamiche con Carmine tu ti ricordi qualcosa di mare fuori? no non ti ricordi la terza stagione? no, è quella che mi ricordo di meno la terza è quella che dicono essere la più bella no, non è vero, non è la terza la più bella perché c'è la tresca tra Carmine e Rosalicci ah vabbè, sì, però mi ricordo solo Rosalicci e Carmine comunque Carmine ci prova spudoratamente con Rosalicci ma proprio, ma tanto ci c'è giù presente, lei tipo tutto il tempo che pensa che lo vorrebbe uccidere ma comunque lei è mia sorella Chiara non posso fare spoiler proprio è mia sorella Chiara è qui perché si è si è sentita obbligata a fare questo video no, si è piazzata a casa mia quindi o così o non posso fare video quindi benvenuta partiamo subito con l'episodio mi raccomando lasciate like, iscrivetevi al canale non lo so ah, seguitemi sui social già l'ho aperto un profilo TikTok e un profilo Instagram e ancora non mi state seguendo lo sai che sei la prima persona che che entra nelle reaction a noi fuori? le ho sempre registrate la sola quindi sei sarebbe stato l'unico format la guest star ospite speciale Chiara ancora a fare la pizza? ah, siamo già così provo subito finalmente oh, che cazzo senti che è lì? mi è contento pur di passare il tempo con me ma sta a posto come sei tu? tu sei mai shhh tu hai giro giusto? c'è una cazzina e che stai facendo in barato? vero? eh, giro ma che tanti ci provano a tavolo e due che la blocca così ecco, si rilassano loro oh baciala? ma sta a posto ma cosa baciala? non è così il vinto la cosa vabbè, bro, guardali lei, lei è un po' poco convinta non so manco lei non so se vuole baciarlo o lo vuole uccidere sì, cioè, non lo so decidi cosa succede? accadito niente tu riesci a fare tu in formudo il coltello è impazzito all'improvviso è cominciato a volteggiare è un po' all'uma di candela, Tony all'uma di candela ah ah il cammino è buono io quando faccio mettere la candela accadito tutto picciano ancora un letto ciò che non fosse lungo secondo me lui sembra come si chiama il ciccio? pinucchio 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 ma ti giuro quanto mi farebbe incazzare uno che mi ride in faccia mentre io sono incazzata nera. Cioè, non ti darebbe troppo fastidio che uno ti ride in faccia mentre tu stai cercando di ucciderlo? Mi imperebbe una rabbia. Ma no, quanto è brutto questo. Perché? È così bello. No, a me non mi piace. C'è la faccia da topo. Cioè, è un infame, però è un bel uomo. Un bel ragazzo. Uomo. 16 anni. 36 ore alla svolta. Va bene. Dove lasci voltato? Eccolo. Oh, amore mio. Lo sai, C'è Achille, ce l'ha già spiegato? Allora, forse non ce l'hai spiegato buono. Con lui ce l'avevano? Sì. Ah. Ma Filippo dove sta, che non mi ricordo? Filippo è scappato con una tizza. Ah, è vero. Non si capisce qual è il loro piano. Non ho ancora capito quello che è successo. Se nessuno gli spiega niente. Ho fatto male a finire qua. Deve avere pazienza. È tutta colpa mia. Quanto male ne ho fatto. Diamole un po' di tempo. Devo tornare a casa. Ma perché non rimani a Napoli? E come? Non ho soldi. Che soldi? Vieni a stare da me. Eh, certo. C'è una casa grande. Vivo da solo. Ovvio. No, ne faccio niente. Facciamo due volte lo stesso errore. È così difficile da capire. Cioè, le sembrerebbe tornare indietro nel tempo, così, come se nulla fosse. La tifa è passato tanto di quel tempo. Ma lui pare sembra mio nonno. Lei sembra che ha 40 anni, lui sembra che ne ha 70. Se cambi idea. Che lei è più giovane dice... Sì. Eh, ma sì. Ma lei è sì. Sembra una padre e figlia, però. Ornetti alla crema. Servizio a cominciare. Mi cazzi l'ho fatto colazione. La storia d'amore. Che cos'è questa improvvisata? Al marito questa l'ha cacciata più veloce di, non lo so, in un secondo. Non ce l'ha più. Le ha detto di noi. Che ti amo. Oh. Volevo che lo sapessi. Un po' precoce. Volevo che lo sapessi e l'ha detto che mi ha consigliato con lei. Che amo anch'io. Eh? Eh? Ma l'ha fatto salire in braccio con questa facilità? C'è la mezza gamba rotta. Si dimentica che ha la gamba rotta. Guarda. Senti un po' precoce. Edoardo. Amore tuo. Amore tuo. Ma tu ci credi che è diventato un bravo guaglione. Chilo senza palla se mi si paura è morito di chi. Oggi è venuto un gamba che ha da fare la vita e non è steccano con quattro sorti. Contento lui. E tu? Ma con l'uomo. A me Pirucchio mi ha fatto commuovere quando si è abbracciato quei genitori. Io non dico niente. Vedi dopo. Sul passato puoi parlare. Non devi squalierare. Ci faccio cosa stai facendo. Così ti faccio camare. Non mi vedi come sto pensando. Non mi metto a trapassare. Che pianza fa? Oh terza stagione sono cambiate completamente le quadrature. È tutto più figo. E questo chi è? E questo chi è? Caro, che bella. Ma rosa la tieni? Che ore? Ti sei incantato? Ti piace lo an? Guarda che non è un fuggito. Me la prendi tu? Sì. Vabbè, ti aspetta al barri. Ok. Oh, è dove? È dove? Apri la una o per un'altra? Oh. È stato accorto perché avresti un po' di sparangare. No, aspetta. Ti ha fatto vedere in faccia? È scemo proprio, Beato Ardo. Ma non ho capito. Lui voleva sparare al tizio o l'ha confuso per... No, no, voleva sparare al tizio. Ah, ok. Quindi sapeva a chi stava sparando. Sì, sì, sì. Pensavo che avesse confuso... Ah, poi guarda dopo. Non so quanto è emozionato. Così chiama il ragazzo, quello che ti aggiungo? Mimmo. Eh, pensavo avesse confuso a questo per Mimmo. No, dopo capisci perché ha fatto così. Cioè, dopo capisci che succeda dopo. Questo. Ci aveva fatto impazzire quando ha visto questo. All'avvocato. Cioè, si conoscono tutti gli infami di questa città. Ciruzzo. Ciruzzo. Perché è incazzato? Perché è incazzata? Perché non l'ha già lasciato? Questa è la domanda. Ma non mi ricordo che è successo prima. Di tutto. Gli ha messo le corna 180 volte. 180 volte. Ogni volta che c'è qualche occasione per il figlio, lui scappa e se ne va da un'altra. Ah, ok, ho capito. Vai, continuo. Questa ha fatto ammazzare la famiglia di Rosa pur di salvarlo. E quella è l'infame e non fa altro che tradirla. Non lo so, dimmi tu. Se può essere incazzata. Ok, dai, dai, mi ricordo adesso. Contenga. No, veramente. La stessa reazione mia. È tranquilla, lei, eh? Vabbè, amo. Amore, cose niente. Ma guarda. I momenti più importanti. In tutti i momenti più importanti. Tu esci giù testata, cose niente. E' spaiata, amo, amo. Che succede? Ma ti tiro una testata in faccia. Può capitare, scrivelo. Sono cose che capitano. No, non fa così. Non mi piace. Ma che ne fotte una cattillo? Tu sei avita a me? Ma come si fa? Ok. Ma non mi piace? Oh, ancora. Chiuro l'occhio. Ah? Chiuro l'occhio. E doveva non faceci mascianata. Di che passo, cagavo in un muro. Con gli occhi. Ma ok, forse. Ma si fa santo. No. Pure sei pesante. Pure. Ehi, cosa devi fuori da quella task? No, così davanti a tu. Almeno. Vai, va bene. Ma ha fatto a prendere un anello qua dentro. A questo posto allora. Va bene, amore mio. Non c'è su niente. Tu sei l'unica, l'unica. Sentite. Ma scusa. Siete veramente una cosa imbarazzando tutto questo. Guarda. Nita, voglio solo a te. Voglio solo a te. Se compareste in questo momento, come si chiama? Chiatilla. E io non cagisto molto. In ginocchio, ti stronzo. A terra. Come si è un mito, siamo marito e moglie. Sposiamoci, no? No, siamo una famiglia. Dipende, ma lui al matrimonio si presenta prima da... Dalla chiatilla. Dalla chiatilla. Che dice? Ti ha persa l'imba? Sì. Lei è la sorella della Giorgia, ti giuro. Eh, dico... Sì, io non ho la parola. Mi ha calcolato tutto così, con questa facilità. Va bene. È tutto apposto, amore mio. Lei pure, lei, boh. Non si applausi, pure tu. Cioè, lei che rovina tutto, con la chiatilla. Secondo me l'ha salvata, quella. Ah, Teresa, non mi veniva il nome. Non mi è customato. Contenti voi? Va bene. Fincera. La storia d'amore è più quella che abbiamo visto. Lui e lei sono la tigre e il ghepardo. Lei è tutta ammaculata. Lui con i tatuaggi della tigre. L'hai chiamata tu? Fai sempre come cazzo ti pare. No, te lo giuro, non ne sapevo niente. Non l'ho chiamata io. Ok. È come quando sei andato a Roma? No, questa volta ci devi credere. Io non ti avrei mai messo in difficoltà in questo modo. Tu mi conosci già da un po'. È così strunzo, mi fai? Sì. Sì. Non la voglio vedere. Io credo sia giusto che tu la veda. Tu hai solo lei. E lei ha solo te. No. Io... Non è vero. Ho Pino adesso. Non ho più nessuno. Pino che sta ascoltando la conversazione. Sè di storie. Guarda, no? Ci è rimasto benissimo. Cos'era? Senti, lo so che sei incazzata, però... Ho sentito quello che hai letto dentro. Noi vogliamo ballare, facciamo finta di... E tu che cazzo vuoi mo? Pure. Vattene. Se ti lascio solo, ma che stai... E che ho messo? Vabbè... Ti ho detto vattene. Posso bere l'acqua? Certo, poter bere l'acqua. No, magari... Che domande sono? Magari non potevo farlo davanti alle telecamere. E non è qua. E questo sarebbe sfruttamento minorino, scusa, eh. Beh. Pure io, pure io. Posso bere l'acqua? Chi ti fa te stesso? Seduto il comando qua. Sono che il cavo. Mi so come il cavo. So fedele. Non abbandono chi amo. Ok. Sono un cane. Ma ti... L'ho detto venti volte, ma lui ha avuto lo sviluppo del personaggio più bello di sempre. Viene. Di faccia? Baccio. Baccio. No, non ho detto glow up. Ho detto proprio miglioramento del personaggio. Pure glow up, eh. Perché è più bellino. Ti porta a vedere una cosa. Ma non sono... Non hai mai visti baciarsi tu ancora? Veramente. Ti porta a vedere una cosa. Vieni, vieni. Bella o brutta? Eh, poi lo deciderai tu. Invece lui è un gentiluomo, l'ha portato sul tetto. Me la butta giù. Respiti, respiti. Questo va bene. E la rimane. Vabbè, lei è una bella. Sei più bella tu. Ma mai quando è te vero. L'ho detto. Se non scatta il bacio, guarda. L'ho capito fin dalla prima volta. Che cosa è? Che vive una bellezza dentro. Ora per arrivare il momento di farla uscire fuori questa bellezza. Sai, c'è adesso un buccesso fuori. Che c'è dentro il tuo cuore. Ok? Baciala. Senza aver paura. Ti amo. Wey. Wey. Stiamo aspettando il bacio? Niente, non ce la fa. Andiamo in piazza. No, dai. Sciocchino. Ah, no. Passa, fatica. Se la stava maniando, se la stava baciando. Ringraziamo l'attore che interpreta Pino per averci concesso il bacio, perché da quello che so, con il fatto che è fidanzato, lui non si permette. Non ho mai detto nessuno. No. Che tristezza. Non lo so, madre. Ora lascia perché... Mi metto a piangere. Dai, Pino. Ok. Comunque, il controllo di questo carcere, quando gli è paro a loro. Questi serenamente sul tetto, senza che nessuno dica niente. Grazie. Grazie. Fammi l'augurio che mi sposo. Stiamo mettendo la capa apposta. Eh? 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 Speriamo. Diamo un bacino. Ma vai, va. Viva la capa! Viva la capa! Secondo lei basta che si sposa per mettere la capa apposta. Sì, sì. Metti solo le corna da marito. Può mettere le corna ancora meglio con l'amante. Sì, sì. Che tradizionale. Già l'ha avuto. Ok. Ok. Donna, guarda che... Sono contento, Tua. Che faccia, Edward? Augurati. Grazie. Stiamo facendo due tarantelle qua, eh. No. No. Per una volta che non stavano facendo tarantelle, no! Per una volta che stavano parlando in modo civile. Si fa. Sei troppo bella, Tua. Ma no. Quindi ci piacciono l'uomo. Non ci prendiamo. Ah! Non posso parlare. Tanti auguri. Mamma mia. Perché stai piangendo? No, è da quando ha buttato quello giù dal palazzo. Aia. Wow. Stai scrivendo una nuova canzone. Molto più triste delle altre. Ce ne vuole. C'è una linea sottile tra l'essere cattiva e l'essere cringe, comunque, eh. No, veramente. Io non la sopporto. Mi hai desiderato la morte di qualcuno. Speriamo che muore. Io no. Ma che la cesta là, sì. Io l'ho desiderata al punto di prendere una pistola e sparare. Non si fanno queste domande all'interno di un carcere? La risposta è ovviamente sì. Avete visto Cobra e Pino, per caso? E dove stanno? Goppotietto. Ma guarda quella nuova. Mi sembra ancora. Ci siamo noi dentro. Ma basta. BASTA! Un po' basta. Io preferisco quello. Ho deciso da 5 minuti. Che palle. Magari ci porta via da qui. Lasciali fare i romantici per 5 minuti di finita. A dove vorresti andare? A casa tua. Lucesse. Andrei in un deserto con te. Un deserto? Ma perchè? Così siamo soli. Mi finisce cazzo qua. Ma so a questi fulici che potessi pure morire. Ma... Potremmo ero per sempre. Ma stanno insieme da 5 minuti. Zitta! Guarda! Non parlare tu! Non parlare tu! Si può sapere che cazzo fare qua! Ehi! Ehi! Le parole! Beppe! Ma che siete impazziti? Sto peppe! Sono impazzito d'amore! Beppe! Un po' a me mi fai diventare! Pazzo! Allora! Stacca sta mano! Stacca sta mano! Stacca sta mano! Questa finta... Questa finta cosa che deve proteggere la figlia. Quando in realtà è contentissimo che sta coppino. Ho già visto che sei diventato amico a un pirucchio. Nel pirucchio. Questo è vero. Primo può accedere e ora ci sei azziccato. Eppure tu sei un tipo strano. Primo stai a ricci. Pochi conti. Mo stai parlando con me. Carmine io preferisco parlare con tutti quanti. Ma così capisci che chi mi ha fatto sfidare. Eh! Sono gli altri che non si possono fidare di te. Wow! Wow! L'ha detto! E' il figlio del capo suo. Se lo vuole fare amico. Prossima domanda. Che è sta musica? Un interrogatore mio. Un amico vuole conversazione. Quando io e Attila siamo scappati. Hanno cominciato a cercare un collo. Poi a un certo punto si hanno fermato. Non volevano a mio Attila. Volevano a Eduarda. Lo sai potresti scrivere libri fantasie? No. Vivo solo in questa guerra e merda quando da 15 anni. Pazza. E quindi un'idea malaggia fatta. Su chi è stata. A dargli un po' di questa forma. Ah ah ah. Sia così allora devi dire tutto alla polizia. Perché forse loro ti credono. E meno male che erano un tipo intelligente frate. Senti. Mi sono scassato cazzo. Dice a tua madre doveva trasferire. A mia mamma. Come che la dici tu? Non è mai stata la parte mia mamma. Non è mai appartenuta a essa. Voglio che ha fatto grosso. Ti sento nomma. Però mi ti dica una cosa. Che forse ti è sfuggito. E mamma ti ha fatto proteggere. E ti mette per suonare e ti vede per lo culo. Se la persona fossi tu. Siamo parati allora. No? Notizia del giorno. Notizia del giorno. Hanno provato a maggirlo. Notizia del giorno. Ma ha già parato quello su di. Notizia del giorno. Io non tengo bisogno di protezione. Sono state chiare? Che gagnocco. Buona giornata. Da notare che questa scena è stata registrata tutta utile eh. Non ci sono stati tagli. Adoro quando fanno le scene così. Sì. Sta arrivando. Aspettami lì che vengo subito. La scena con Ciro. Vai. No. Me la conservano per dopo. Ci sono delle regole qui dentro. Voi lo sapete quanto io voglia che... Voi dovreste vergognarvi per quello che avete fatto. Avete tradito la nostra fiducia salendo sul terrazzo vi siete messi in pericolo. Ma vaffanque. Perché se non si stia ancora la direttrice? E' cubracia mio amore. Siamo fidanzati pure ufficialmente. Ma ufficialmente che... Va bene ho capito. Però non potete fare come vi pare. Voi potete incontrarvi durante le attività comuni e tutti i progetti che farete insieme. Perfetto. Allora e cubra faremo tutte le attività comuni insieme. La pizza, la musica, la barca. Basta. Tutto. Le regole le sapete. Però niente iniziative come quella di oggi altrimenti sarò costretta a prendere i provvedimenti. Ma ci sono le regole. Ci sono Ghiattillo e Carmela che fanno sempre fatti loro come vogliono loro. Mi ricordano Filippo e Natizza. Sì però questi due se la meritavano una punizione. Non possono fare quello che gli pare. Cos'è questa inversione di ruoli? Di solito la severa sono io. Non voglio che commettano errori tutto qua. Ma vaffanculo. Gli innamorati sono innamorati. Gli innamorati commettono sempre un sacco di errori. Sono innamorati. Che cucciolo! Fidanzati ufficialmente. Che cucciolo che è? Dai! Manuela. 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 Elena. La lettera. Per me. Ma sei sicura? E questo nome tuo è la coppia? Ma non c'è chi l'ha mandato? Diggi un breast che è la macchina. Vuoi te che è una pizza? Ma chi è un numero di tuoi? No. È un mio cugino che non si è intimida un po'. E che te l'ha scritto? Dice che sta in vacanza con una ragazza. Che la ama. E vorrebbe stare tutta la vita con lei. E chi è questo? Tu non sei mai stata innamorata? Non ho mai trovato quello giusto. Sei tutto quanto sbagliato. L'unica cosa che conti è la famiglia. Ma basta. Mamma, da parte è frate tuo. Io ne è rimasto uno. Non è rimasto nessuno, solo il padre. È rimasto il padre, forse. Questo santino di Ciro dentro la stanza è un po' inquietante. Qualcuno ti pensa. Ah! Mi sa che è una tizia che ha scritto una lettera. Il cugino che sta con la fianzata. È una tizia che sta con Filippo, penso. Capito, ma perché non glielo poteva dire a Rosalicci? Ok, ma poi gli dai la lettera davanti a Rosa che gli hai appena detto una palla. Vabbè. Ah, è Filippo che ha scritto la lettera. Quaggiù la vita è avventurosa. Ma finalmente sto con una ragazza meravigliosa, in una terra grande come il nostro amore. E questo mi ripaga di ogni difficoltà. Ma a me lei non piace. La sera, quando il cielo si riempie di stelle, il pensiero ancora a tutti voi, e in particolare ad un amico. Il mio migliore amico, che con il suo sacrificio ha reso possibile tutto questo. Non sai quanto mi manca. Non sai quanto io e la mia ragazza lo vorremmo avere qui con noi. Ma desidero che lui sappia che è come se fosse qui. E che prima o poi ci incontreremo di nuovo. Una parte di me rimarrà sempre lì con voi. Perché ero morto. Ed è lì che sono rimato. Ok. Quando è mai stato amico di Sibia, lui? Non si sa. Non penso abbia mai avuto una conversazione con lei. No, sì. Hanno avuto conversazioni che riguardavano solo una vizza, però. Vabbè. Capirai. Il tuo cugino lontano conoscevo, però piecro. Iiii. Ciao. Kubra. Mi ha aperto una signora che stava sotto. Sì, vabbè. Ti aiuto io. Dammi. Dammi. Vieni che faccio strada. Ti prepara qualcosa da mangiare? Questa è la grande casa che ha detto che Beppe ha. Minchia. Minchia. L'ha spacciata come se avesse tipo una villa, eh. Non lo so. Ho una grande casa. Dai. Sono contento che sia venuta. Non mi toccare con questa casualità. Vedo che in Kubra si aggiusta tutto. Lo spero anch'io. Non ti pigliare questa confidenza. Stanca di lottare. È tutta una vita che non faccio altro che lottare. È colpa tua. Non ha servito a nulla. Mia figlia mi odia. Forse l'ho persa per sempre. Se lei non mi perdona la mia vita non ha avuto un senso, lo capisci? Kubra cambia idea. Kubra è una ragazzina. E ti vuole bene. E vedrà che te lo dimostrerà. Ok. Scusami, adesso sono stanca. Sì, certo. Mi devi preparare il conto che domani vado via. Va bene, sarò tutto pronto per domani mattino. Grazie. Quanto scappano? Che fa? Che succede? No. Non lo sanno che ci sono le telecamere. Sono morto. Anch'io. Il problema loro, sai qual'è? Che non è che non solo vogliono stare negli hotel. Cioè vogliono stare negli hotel di lusso. E secondo loro non ci sono le telecamere dappertutto. È finta, siamo ancora. Tiene vent'anni ormai il figlio di Massimo. Sta crescendo. E anche mi fa cinque anni quando ho iniziato a te. Sì, infatti. Sì, c'è. È una giurenda un altro po'. Ah! Ma vabbè. Io vorrei capire questa bambina quando torna Carmine. Diretti ciò che fa. Grazie. Eccolo! Non ce l'hai più grande, più potente? È normale. Cadeniamo tutto pausa, aspetta. Voglio questa. Questa vanno cinque euro. Scusa, ma che sordo ho chiesto? Sono cinquecento euro. Non l'hai mai visto? Senti, puoi fare cinquecento euro, fatica più in un mese. Mi dispiace ma il resto non lo tengo, eh? Il resto te lo puoi tenere. Così per questo mese sei a posto. Così tuo figlio è Dan Salvatore Riccio, vero? I ricci apprezzano vi sa accampare a questo mondo. Oh, eramo apprezzate. E allora pigliatemi a fatica con voi. È un po' su vestire e merda, che ho fatto? Non sto pazziando, sono serio. Forse non mi sono spiegato bene. Tu tieni dei sordi e scordo di quello che hai visto. Ah, ecco, chissà, dei sordi. Dicevo io. Con tutto rispetto per voi e poi famiglia vostra, ma questi sordi non ne posso accettare. È bravo. Li prendo io. Da me, da me. Mi dimentico pure. Oh, non ho più la cover. No, ragazza amica. Sta ancora aspettando la cassa. Sta ancora aspettando. Pierino Marinovic, apra la porta. Ma di notte questi arrivano. È in un momento. Che modi. Una. Una. No, perché c'è te fatica? Bravissime, sondate. Ha dimenticato qualcosa? Sì? No, cazzo, Flee! Cazzo! Che c'è? I soldi sono rimasti nell'armadio. No. I soldi dei gioiali in Alizzo, eh? Ne devi attaccare al tram. Basta, sono andata in caccia. Ma sono fuori dall'Italia, mo? Non ne ho idea. Mettetevi a suonare in mezzo alla strada e raccogliere i soldi. Suonare non so con quale pianoforte, però. Ma Romo, devi vincere in ristorante. È proprio elegante, sai? Sì, perché poi fuori ci sta il giardino dove possiamo fare l'aperitivo oppure ci possiamo fare un sacco di foto mentre gli invitati, sai, si prendono qualcosa per rinfrescarsi. Ciao. Ti giuro non gliene spazio, manco per la minchia. Ho parlato con l'avvocato, ha detto che ti fanno uscire per la minchia. Abbiamo detto alla direttrice che volevamo dirtelo noi. L'ha messa in prova? Ti è stata concessa. O che lo fai? Vuoi uscire subito, Gaeta? Non mi sembra vero. Ora proprio ora. Ah, now. Gaeta, che c'è? Guarda quanto è bello. Non sei contento? Sì, sì. È solo che non me l'aspettavo. Ricominciamo a vivere. Mamma mia, io non vediamo. Ma parla subito con l'avvocato. Ma non te l'ho detto, per il matrimonio è tutto a posto. Ma sa quanto gliene frega? Ma parla una cosa più importante. Sa da fammresso. E che cosa? A me non piace il personaggio di Edward, è proprio cattivo. Pensavo fosse... No, mi piace troppo. Io pensavo fosse buono, pensavo fosse tipo... Non lo so, me l'aspettavo completamente diverso. Invece è sempre peggio. No, mi piace troppo. Gianni, ti prego, parliamo. Odio quando parla questa. Gianni, ti prego, parliamo. Dai, ti prego. Che cosa dobbiamo dirci? Ma lei è una stronza se non è andata con il... Mi dispiace. Io lo so che sei arrabbiata con me, ma io ti giuro che non lo vedrò mai più. E per forza non lo vedrò mai più. Gianni, per favore. Quindi che l'ha detto che c'è stato a letto? Ma lo so. Scusami. Per forza, perché sennò perché lui è incazzato? Cioè noi sappiamo perché... Perché c'è un trauma. Noi lo sappiamo perché è incazzato, ma lei per cosa pensa che lui è incazzato? Che l'ha detto per forza e ha fatto questo stato a letto insieme. Anche perché si sono visti, cioè... Ehià. Eccolo. Bello schiaffato sul pavimento. Ma non era caduto all'indietro? Guarda. Si sarà spostato. Tu da solo. Era in una posizione scomoda. Si è sistemato un attimo. Si stava bruciando solo da un lato. E poi fanno girare. Ci conviene patteggiare. Così andiamo subito a sentenza. Ma non avevi detto che era meglio aspettare e fare il processo? Sì, ma il giudice è cambiato. Questo lo conosco. Te la capisco un po' che ti pigli subito un permesso per andare a casa. A me non interessa andare a casa. Evo l'unico detenuto che non gli interessa di uscire. Mi uscivo ieri? Ma che lo c'è stata casa della famiglia mia? Avvocain ci voglio mettere occhio a bere. E vai a trovare gli amici, la fidanzata. Ce l'avrà in una ragazza che ti aspetta, no? No. Mi rende niente di nessuno che non aspetta. Mi raccomando, è più tardi dal giudice. Fagli vedere che ti sei pentito di quello che hai fatto, eh? Un bel... Oh, un bel sorriso. Non c'ho un cazzo da ridere. Tutto a posto, ma? Che ha fatto fino a quest'ora? O, a chi una che disse, tu guarda se sta zitta. Non ha manco voluto i soldi. Eh, perché? E dice che l'ha fatto per il rispetto che porta la nostra famiglia. E tutti sceme, hai detto come faticato per noi. Che sta qua fuori, che ci ha già detto? Ci voglio parlare? Ci vuoi parlare? Che puoi parlare? Però te la signora. Ma dai, è sera? Conciapato, è la mattina. Buonasera, Don Salvador. Tutto il mio rispetto. Ma tu a chi appartiene? Mamma, ti vado da Russia. Ma non lo so. Non essendo la mito. Ma la famiglia mi ha schifo. Mi so disprezzo la famiglia. Ma hanno sempre campato come un barbano, Don Salvador. Ma queste che famiglie? Che sai fa? Niente. Tutte quelle cose servono. Passa tu mi rimani. E tu, a cazzo cosa per cuore. Uno ti ho fatico per me. Va cambrano così. No, va vestito tutto a colorito. O in gioca di pelle. Non me ne pentirieta. Le ultime parole famose. Come hai finito poi? È una famiglia di Carmine, invece. Ti avanti, vedi? Sto figlio e cana. Fa bravo in tribunale. È normale, tu? È saluto ma l'avvocato, Camilla e Nugeni. Se ne era visto, se ero già poggiurato. Mamma. È sul tutto? Grazie a due ore mi stai rendendo il lavoro facile. Questo mi dovresti dire. E mi devi perdonare, Don. Mi state sentendo. Mi stanno sentendo, oce. Ma pensi a te, c'è pure Mimmi. Sai, calma, non fa stronzate. Quando sei fuori ti faccio spiegare quello che devi fare. Me la ricordo la strada di casa, Don. Ti fai un scemo, però. Ti fai un mito in casa. Io non ti devo niente. Ti è piaciuto il fuoco a morristo? A farti proteggere da giro? Ma te, c'è ancora scritto un po' a mano. Don, mi devi toccare, Don. Credo, sei il pendito, no? O fu pendito? E rispunto! Non sono un pendito. Ma no? È che sì. Sei un collaboratore di giustizia. E tu hai mai fatto qualcosa per qualcuno che schifi? Ma io, però, c'è nulla, un dì. Vamo! O mi ammerdi. Ma dite quello che volete, tanto me ne sto andando. Facchio. Saluto me a tuo padre e a tua mamma. Goditela questa famiglia, Pirù, che ha cose più importanti. È sempre peggio, Edoardo, te l'ho detto. Ma a me piace troppo, non so perché. Cioè, Ciro degli aspetti positivi ce l'aveva. Cioè, Ciro piangeva quando morì. Edoardo, non lo so, io vedo solo cose negative. Non sto vedendo un minimo di empatia, un minimo di qualcosa di buono di lui. Niente. Solo male, vedo, a partire Edoardo. E metteci un po' con chi ho entusiasmi, no? Come siete fatti a cercare, lo vedi? Fatte cazzo tu hai. A sacci fa soli. Eh, una grande figura e merda. Facite pizza e non per la grande conferenza e ti duce. E mi dite sempre l'occhio un po'. Guarda qua, se vanno qua a girare, ecco io. Lo sai che sei proprio senza palla? Ti basta una letterina per piangere come una femminuccia. E perché un uomo si sta a mettere il cuore di piangere? Ma no. Sai quanto sarebbe infame? Se dicesse... Tu non hai pianto quando è morto Ciro? No. Un uomo si dovrebbe mettere... Si dovrebbe vergognare di piangere. Ma perché tu fratello ha chiamato mentre morì? Sarebbe la cosa più fame del mondo. Quando doniamo un bagno? Serio però. Non ho parurello. Come hai tenuto? Cosa che devo avere? Non ho capito. Fa paura. Penso non doveri tanto. Uno che ti ama, tipo. La cosa più bella che la vita tu ho otto. Ok. Quando la bonda piegherà, mi parla un prevedo. Un prevedo che ha conosciuto l'odio, ha morta, ha fammaccirata. Quando ammazza la moglie, mi ha ammazzato l'occhio a me. E non ci potete fare niente. Ma ci dovrebbe forza è cominciare a votare con mia figlia. Solo po' essa. E ora l'unica desidera che deve essere un buon padre per lei. Sai che bollice? Basta cercare di far piangere, lo sai dici? Si mette sempre in mezzo al cazzo. Eh, fa volta che lo vediamo. Ma che c'è il tuo padre che non mi ricordo? Eh, gli hanno sparato. Non gli è rimasto nessuno stavolta. Stavolta crista. Ma la fanno qui. Vieni. Che che gli ha sparato al padre? Gli hanno sparato la famiglia di Carmine, mi pare. Grazie. Ok. Dunica lo sai, non capisco perché si è fissato subito senza far... Cioè, non ce l'ho spiegato perché. Cioè, non ce l'ho spiegato perché si è fissato con lei. Poi si è rimasto solo tu. Tanto se continuano queste faide non muore oggi, muore domani. È cambiato. Dov'è? Ma non sta a buono. Lascia parlare a me e rispondi se lo sei interrogato. Ah, buono. Con il giudice siamo d'accordo. La sentenza va in giudicata e poi chiediamo subito il permesso. Sì, sì, ho capito. Ti aspettano in bagno. Oh, attenzione. Scusate. Sta per succedere qualcosa di epico, vero? Scusate, pozzina, ti mando in bagno. Non mi ricordo. Adesso. Ce la faccio che ho. Almeno chiedi, cioè, aspettare in bagno potrebbe essere un amico o un nemico. Cioè, è così, tranquillo, lui entra. Donna Valle. Sono in pericolo, Donna Valle. Siamo in pericolo. E tu guarda capito tutto questo, ma fa finta di niente. Qua ha fatto capito? Non mi piace. Solo voi mi potete aiutare adesso, Donna Valle. E io, ma? Come sta? Sta buona? Sta fa... Ma rischia assai. E perché? La paga con la ria dei dici. Sarece quella non vuole morto a vostro figlio? Io cerco di non lasciarlo mai da solo. Ma vado impossibile da no? Volevo dovete far trasferire a Carmina. Noi come andamma. Teniamo paura di niente. Ma che nell'occasione... Lo sai, se ci dice la grazia. Potremmo avere una famiglia che sapeggio cura di te. Che non ti fa mettere scuola. Niente più miseria. Niente più scuola. Chiara. Ti piacissi? E allora io fai una cosa. È una cosa facile facile. Non lo piace. No. A Ciro a Rosari. Ah, ok. Cosa ti pensavi tu? Mi pensavo che ci fosse una tresca fra questi due. Che succedesse qualcosa tipo... Non lo so. Che il piacere che voleva era qualcosa di sessuale. Ok, basta. Ah, ho tutti i brividi. È stato figo invece. Agile a Rosari. È stato figo. È stato molto figo. Vabbè ragazzi, vi ringraziamo per essere stati con noi in questa puntata. Fatemi sapere nei commenti se ti volete, mia sorella, in un altro episodio. E lasciate un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo nella prossima puntata, nella terza puntata di Mere Fuori. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.